Venerdì 19, 18 ottobre 2019, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Municipio X, il programma di approfondimento di Milano News che viene fatto tre volte alla settimana il lunedì sera, il mercoledì sera, appunto il venerdì sera, con ospiti della realtà milanese e non solo come potete vedere anche voi qui con noi, io saluto la mia ospite Federica Carbone che è fondatrice dell'associazione Emergenza Borderline Sì, ciao, grazie dell'invito Buonasera, allora, questa sera quindi parliamo di un disturbo psicologico che è quello del disturbo della borderline, si dice così proprio? Disturbo Borderline di personalità, o disturbo di personalità borderline, comunque sì Ok, e tu hai fondato questa associazione insieme ad altre persone, insieme a due altre persone, giusto? Sì, Francesca e Nicole, che sono state mie compagne di percorso io ho proposto di fondare questa associazione anche ad altre loro sono quelle che hanno deciso in quel momento che se la sentivano e quindi abbiamo iniziato noi tre Ecco, raccontami un po' di questa associazione perché comunque è una cosa abbastanza difficile da sentire in giro di persone che hanno avuto un percorso psicologico rispetto a un determinato disturbo e che insieme decidono di fondare appunto questa che tu prima fuori onda l'hai chiamata più progetto che associazione Sì, perché allora, il discorso era questo quando siamo arrivate alla fine del percorso che ci era stato proposto logicamente eravamo da una parte contente ma da una parte ti chiedi anche oddio adesso che finisce tutto come andrà e era il 2013 nel 2015 ci siamo sentite pronte per effettivamente raccontare questa esperienza visto che non c'erano state ricadute non avevamo avuto più problemi di questo tipo effettivamente quindi la terapia aveva fatto il suo dovere diciamo la cosa è partita con un video e niente era appunto diciamo questa nostra voglia di raccontare un video che possiamo trovare sul web che potete trovare su YouTube si intitola Uscire dal Border io chiedo alla regia se sono in grado se possono di cercare il video magari lo mandiamo online intanto andiamo pure avanti e niente, praticamente dato che io comunque ho sempre lavorato nel dietro le quinte della creazione di contenuti quindi nel cinema, nella moda, negli eventi e-commerce eccetera la prima cosa che mi era venuta in mente in quel periodo era stato proprio appunto realizzare un video il progetto qual è? quello di raccontare che effettivamente un disturbo come quello borderline che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle ma quindi per, voglio dire, logica probabilmente anche altri non sono da vivere come condanne a vita ma sono cose sulle quali è possibile intervenire ecco, prima mi dicevi fuori onda che una malattia psicologica può essere in un certo senso paragonata ad una malattia fisica ovvero che è possibile definirla come un disturbo che può essere curato sì, allora secondo me dobbiamo uscire un po' da questa distinzione tra salute mentale e salute fisica perché la salute mentale che quindi fa riferimento al cervello che comunque è un organo ha ripercussioni sul fisico come problematiche fisiche possono averla sulla salute mentale quindi io credo che sia importante quindi sono molto collegate tra loro assolutamente sì il corpo è uno la persona è una l'identità è quella e quindi secondo me è importante dare pari dignità a queste due sfere della persona perché altrimenti ci troviamo in una situazione in cui se hai un disturbo cronico una malattia cronica una malattia autoimmune o comunque qualcosa appunto di fisico allora va bene l'intervento del dottore l'attenzione della famiglia della comunità eccetera se invece hai un disturbo mentale tutto sommato in qualche modo è come se un po' te la cerchi non so come intervenire e quindi si crea questa distinzione quando invece voglio dire la persona è sempre quella certo certamente ecco torniamo un attimo ancora alla vostra associazione avete già avuto dei riscontri di persone che vi hanno contattato che hanno chiesto dei pareri un aiuto anche allora sì tantissimo e anzi è arrivato mi pare nel 2016 nel 2017 la prima richiesta da parte di psicoterapeute di Reggio Emilia di andare a fare un incontro organizzato da loro al quale hanno dato il titolo di Aero Borderline e che è rimasto anche come format perché abbiamo iniziato a quel punto a portarlo in giro per l'Italia perciò oltre a Milano che ovviamente è la città che ci ha ci ha accolte da questo punto di vista tutte e tre nella quale abbiamo fatto il percorso e nella quale organizziamo ogni anno un convegno gratuito un incontro gratuito per appunto avvicinare le persone a questo tipo di disturbo dipende in realtà poi ovviamente lasciamo tutti i dettagli sui nostri canali sul sito su Instagram però ecco quello ci teniamo molto a farlo ma in realtà anche in altre città ci hanno chiesto insomma di partecipare e di andare insomma ospiti per questo tipo di incontri perciò siamo andati a Padova siamo andati a Bologna siamo state a Monza insomma il riscontro è importante e ci fa molto piacere perché non riguarda solamente le persone ecco come noi che magari vivono il problema in prima persona ma anche la parte dei professionisti sanitari che comunque è fondamentale questo tipo di alleanza no? Certo tra l'altro io immagino che anche dal punto di vista tuo personale raggiungere questi risultati sia un traguardo enorme una soddisfazione enorme allora sì è sicuramente soddisfacente mi fa molto piacere e mi fa piacere che se ne parli sempre di più in realtà il mio è un filone che si accoda e si attacca a quello di tutto un nuovo modo di comunicare che è stato venendo tantissimo fuori in quest'ultimo in quest'ultimo anno soprattutto che parla di empowerment che parla di gentilezza e di rispetto di se stessi e dell'altro in un modo che un pochino c'eravamo dimenticati ecco inizia a non esserci più solamente quella comunicazione massiccia da marketing puro e crudo come si dice sì nudo e crudo nudo e crudo ottimo ma anche appunto ecco il coinvolgimento più della sfera personale della sfera umana che però rimane difficile perché comunque effettivamente non affronto tematiche leggere o distaccate da me molto spesso mi capita di fare esempi sulla mia esperienza personale e certamente mi capita di sentirmi coinvolta più o meno a seconda dei casi e anche di sentirmi un po' attivata da certi discorsi che si fanno sono cose che mi ricordano anche periodi che sono stati difficili ma lo faccio con piacere anzi io spero che altre persone che hanno vissuto questo tipo di situazione come è successo magari tra tanti VIP eccetera che ogni tanto dicono guardate che anche a me è successo di avere questo tipo di problema anche se sarei un insospettabile spero che anche tante persone semplici comuni come me come te decidano di parlare di questo aspetto anche perché correggimi se sbaglio però secondo me è sotto un certo punto di vista anche normale avere questi tipi di disturbi forse siamo sempre abituati adesso magari forse un po' meno nel 2019 almeno spero personalmente un po' meno però molte persone anche che conosco personalmente capita che magari non ti dicano guarda sto andando da uno psicologo forse se riuscissimo anche a snellire un po' la rarità di queste cose che poi non sono così rare magari sarebbe uguale che dire guarda sto andando dal medico di base a farmi prescrivere una ricetta per un antistaminico certo sì assolutamente anzi recentemente il direttore sanitario di una struttura qui di Milano con il quale ho avuto un colloquio mi ha detto che effettivamente non è aumentata la quantità di gente che soffre di disturbi di questo tipo semplicemente si è abbassata la nostra soglia di supportazione perché gli standard che abbiamo sono troppo alti per noi e questa cosa logicamente ci impone questa rincorsa alla perfezione che in realtà è una perfezione che appunto a parte che non esiste ma poi è così tanto lontana sempre perché il discorso giustamente è perfezione dagli interessi ma poi dalle abitudini anche dalle esigenze un po' di tutti cioè è come se ci fosse questa sorta di appiattimento per cui tutti dobbiamo aspirare ad un unico ideale che però non è ben definito e non si capisce bene quale sia in questo contesto l'idea di andare dallo psicologo e avere bisogno di un sostegno psicologico ma anche di uno psicofarmaco diventa una sorta di mina di minaccia come dire ah ma quindi tu non ce la fai da solo e in realtà le stesse persone che spesso e volentieri stigmatizzano l'assunzione dello psicofarmaco sono quelle che però per sintomi fisici prendono plastica la mattina a metà pomeriggio sera le gocce cioè capito che voglio dire sì 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 certo anche se magari non sono effettivamente andati da uno psicoterapeuta eccetera però magari si riempiono di cose di altri farmaci sì perché magari hai il problema gastrointestinale la dermatite piuttosto che non lo so il mal di testa da stress eccetera eccetera allora per quelle cose lì va bene prendere anche dieci pasticche nel momento in cui invece devi prendere dovresti prendere magari sul consiglio del medico uno psicofarmaco perché stai magari vivendo effettivamente un momento difficile allora in quel caso no c'è tanto vorrei dirlo non è così vergognoso chiedere aiuto anzi no anzi c'è una frase che secondo me è bellissima e cioè che dice che appunto chi va dallo psicologo non è chi non è non è abbastanza forte è proprio chi vuole riuscire è quello più coraggioso effettivamente è un po' così no recentemente su instagram ho condiviso questa frase che diceva teniamoci per mano invece di puntare le dita quando ti tieni per mano c'è sempre il rischio che il tuo compagno cada e tu gli cadi dietro ma quando ci si rialza ci si rialza in due puntare le dita anche contro se stessi tante volte no quando ti dici questa cosa l'avrei dovuta fare diversamente sono una stupida quello no perché devo farcela con le mie forze il punto è che cosa c'è dietro a quella frase devo farcela con le mie forze è un isolarsi ascolta prima parlando hai detto una frase che hai fatto questo incontro con questi professionisti del settore di Reggio Emilia se non mi ricordo male hai detto un format che si chiamava Ero Borderline ecco io ho questa domanda questa curiosità personale è più comune definirsi come guarda io sono una persona borderline oppure vado dallo psicoterapeuta e gli dico guarda io ho il disturbo del borderline della personalità sì è una questione di essere o avere ma guarda allora recentemente anche nel panorama anglosassone questo tema ha avuto un grosso riscontro io credo che abbiano pari dignità di esistere entrambi i modi di dire se uno si sente di dire sono borderline o ho il disturbo borderline dipende anche molto da una questione linguistica e cioè come tu ti spieghi il disturbo e come tu ti spieghi la tua relazione con il disturbo stai dicendo che in entrambi i casi è possibile che aiuti la persona cioè magari qualche persona riesce a convincersi meglio se dice sono borderline e qualche d'un'altra invece ho il disturbo borderline sì voglio dire che in entrambi i casi ci possono essere delle motivazioni per definirsi o meglio inquadrarsi in una situazione piuttosto che un'altra una persona che dice sono borderline in quel momento magari si sta identificando con il suo disturbo però in qualche modo sta anche dicendo lo accetto perché fa parte di me per esempio ma un'altra potrebbe dire ho il disturbo come per dire è una cosa che mi è successa non che mi sono andata a cercare e quindi sulla quale posso intervenire perché è esterna da me e questo è per questo motivo che dico che secondo me da questo punto di vista ci dovrebbe essere assoluta libertà nel potersi esprimere come si vuole perché la questione linguistica è veramente importante ognuno sceglie le parole sulla base dei significati e dei concetti astratti che lega a quelle parole ma sono cose appunto estremamente intime e personali legate a tutto un vissuto perciò io sinceramente non starei lì a costringere in qualche modo qualcuno a esprimersi in un modo piuttosto che in un altro sarei più aperta all'ascolto ecco ecco invece dal punto di vista scientifico c'è una definizione è un disturbo che può curarsi piuttosto che è un disturbo che magari ti porti sempre dietro e è brutto dire la parola cronica perché più che cronica mi immagino qualcosa di te che funziona in un determinato modo e tu ti rendi conto di come funziona e quindi riesci a gestirlo allora questa cosa della cura e della gestione è un po' come la questione del ho il disturbo o sono il disturbo nel senso che può anche essere un approccio che cambia nel tempo io ho sempre sentito il disturbo borderline come un disturbo della mia personalità non la mia personalità perciò nella mia testa l'idea era quella di prenderlo e toglierlo ok quindi nel mio caso dopo sette anni che sono uscita dalla terapia da quella terapia lì e non ho mai avuto ricadute la vedo difficile che adesso ritorni una cosa del genere sono rimasta colpita dalla frase della dottoressa Perry Hoffman che ho conosciuto a Brescia durante un convegno lo scorso giugno organizzato dal San Giovanni di Dio Fatebene Fratelli che praticamente diceva che il disturbo borderline è considerato il disturbo della speranza perché è uno dei disturbi con più alto tasso di remissione e quindi lei era interessata appunto a far passare questo messaggio per cui i terapeuti non si devono sentire spaventati all'idea di prendere in terapia un paziente con diagnosi borderline anche perché ci sono un sacco di pregiudizi su quella che è il disturbo nel senso che ci si aspetta che il paziente borderline abbia tutta una serie di caratteristiche che si ripetono per ogni paziente ma quello che dico io sempre è a parità di disturbo siamo tutti diversi ecco però quali sono non abbiamo ancora parlato quali sono i disturbi che possono attivare il pensiero di dire forse ho questa patologia e forse ho bisogno di aiuto allora guarda io personalmente non mi sento tantissimo a mio agio con l'elencare i sintomi perché credo che sia una cosa che debba fare un addetto ai lavori e io non lo sono quello che ti posso dire è che tipici del disturbo borderline sono il senso la sensazione di abbandono reale o immaginario che sia nel senso che magari tu in quel momento sei abbandonato davvero oppure ti senti abbandonato ma quella è una caratteristica e il senso di vuoto perché c'è questa frammentarietà dell'identità fondamentalmente tu non sei chi sei e quindi cerchi di prendere un pezzetto da una parte un pezzetto dall'altra per ricreare un quadro che però in quel momento quando il disturbo c'è e quindi è diagnosticabile è un quadro indecifrabile no c'è anche questo terzo questo terzo punto che è venuto fuori con la community di instagram il senso del vago cioè tu non riesci mai a spiegarti veramente le cose fino in fondo perché non essendo completamente tua l'interpretazione della realtà circostante sei sempre anche un po' sul chi vive sei sempre un po' scettico e un po' titubante di come l'altro approccia a te perché non sai mai se fidarti per davvero ecco proprio nella tua esperienza personale se non è un problema parlarne ovviamente tu dicevi sette anni di terapia si hai fatto e come è stato gestire questi sette anni allora io ho cominciato ad avere una sintomatologia ansiosa che ero molto piccola avevo circa sedici anni e abbiamo iniziato a cercare insomma un sostegno psicologico fin da quel da quel momento là mi hanno diagnosticato quando mi sono trasferita da Roma a Milano nel 2012 che avevo 28 anni quindi comunque il mio bel percorso di terapie bucate diciamo così me lo sono fatto quando sono arrivata a Milano mi è stato proposto questo percorso intensivo per il trattamento del disturbo e nel momento in cui dai terapeuti che mi hanno diagnosticata e nel momento in cui sono uscita da quel percorso lì i criteri per diagnosticarmi non c'erano più perciò se fossi entrata in quel momento in uno studio di uno psichiatra o di uno psicologo non avrebbe potuto diagnosticare il disturbo dopodiché ho sentito la necessità di continuare a portare avanti il percorso perché alla fine a me la terapia piace quindi diciamo nel momento in cui sono rientrata completamente nella routine non avevo più quegli orari importanti della terapia full immersion che facevo prima mi sono dovuta riadattare a delle dinamiche anche sociali che prima in qualche modo avevo messo da parte perché avevo bisogno di concentrarmi su me stessa la terapia mi è stata estremamente utile e continuo a farla anche se ovviamente in maniera molto più blanda rispetto a prima come potrebbe fare appunto chiunque perché mi piace perché ti piace questa è una cosa abbastanza particolare da sentirsi dire ma secondo me perché ne parliamo poco ma secondo te ti faccio una domanda che esula un po' dalla questione proprio tua personale però secondo te dovrebbero un po' tutti andare da uno psicologo la fai dire a me questa cosa sì perché in realtà molte volte magari anche una persona che non ha un disturbo vero e proprio diciamo quindi magari vive solo la sua quotidianità però sai avere davanti uno specchio che ti ributta dentro quello che tu dici però in maniera diversa mi sembra che può sempre servire cioè è come se tu vedi una strada e vedi sempre solo quella strada e un'altra persona magari con ovviamente delle capacità ovviamente studiate eccetera eccetera quindi non proprio come se tu stessi parlando con un amico una formazione esatto con una formazione professionale ti indica anche un'altra strada allora guarda io sono da sempre convinta della bontà dell'idea dello psicologo di base un po' di tempo fa una cara amica mi ha detto che in realtà tutto è psicologia e se ci pensi ha senso perché il nostro cervello è costantemente in funzione quindi l'idea di avere all'interno dello studio del medico di medicina generale la possibilità di rivolgersi ad uno psicologo di base significa che nel momento in cui tu senti che c'è qualcosa che ti sta sfuggendo o ti senti magari sovraccarico che può essere per esempio per uno studente in periodo di esami per un bambino un ragazzino che passa dalle medie al liceo e c'è un salto importante durante l'adolescenza per una mamma che non lo so sta trafettando una depressione post partum cioè per chiunque veramente può essere un lutto cioè avere a disposizione una figura che come il medico di base il medico di famiglia è disponibile a accogliere uno sfogo e eventualmente ad inviarti ad un'altra figura adatta secondo me è oro beh io direi che con queste ultime parole possiamo terminare l'intervista grazie mille grazie a voi e secondo me è anche molto carino il fatto di parlare queste cose anche in una web tv come può essere la nostra sì assolutamente perché appunto come dicevamo anche in fuori onda magari lo normalizziamo un po' ma assolutamente si abbattiamo questo stigma basta va bene grazie mille Federica per essere stati con noi il sito web www.emergenzaborderline.it perfetto noi poi lo scriveremo anche sul nostro post che faremo in allegato all'articolo della puntata io ringrazio tutti quelli che sono stati con noi a seguire questo episodio di Municipio X ci rivediamo lunedì con la solita programmazione di Milano News tra Good Morning Milano e Municipio X buona serata Grazie a tutti